Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, oggi, oggi un altro video dedicato ai libri. Spero non vi dispiace, però insomma lo sapete, io vado molto a periodi, periodi mi fisso con le serie tv, periodi con i film, periodi con i libri. Ecco, questo momento, in questo momento della mia vita mi va molto di leggere, mi va molto di parlare dei libri. Sarà che sono tornate le giornate un po' uggiose e quindi boh, sto speso dentro casa, leggo. Ecco, insomma, video dedicato ai libri. Ma prima di passare al video, come sempre, vi ricordo che se volete potete sostenere il mio canale iscrivendovi, cliccando il tastino qui sotto, lasciando un mi piace, un commentino, insomma, seguendomi anche su Instagram, mi trovate come marti-bassonau, se i miei video, se i miei contenuti vi piacciono. Vi ringrazio tantissimo perché queste cose mi aiutano e ogni volta che dico così mi sento, boh, non lo so, mi fa strano dirlo, però insomma è importante ricordarlo, altrimenti i canali muoiono, quindi insomma, vabbè, basta. Come dicevo, video dedicato ai libri. Sicuramente avrete letto dal titolo che si parlerà di libri economici, diciamo con un prezzo maggiore o uguale a 10 euro. A me piace tantissimo leggere, leggo tantissimo, ma comprare libri costa veramente tanto. Insomma, se si vogliono comprare numerosi libri, se si vogliono leggere più libri al mese, ecco, comprarli costa veramente tanto ed io ultimamente sto cercando un po' di contenermi perché insomma ho altri progetti per il mio denaro, quindi ecco, so che non tutti vogliono spendere tanto per i libri, quindi volevo consigliarvi dei libri che costano relativamente poco. È stato veramente difficile trovare nella mia libreria dei libri da consigliarvi che costassero meno di 10 euro e che non fossero soltanto libri classici. Ovviamente si sa i libri classici costano poco, li vedete a poco prezzo in libreria perché per lo più, per quanto riguarda questi libri, sono scaduti i diritti d'autore, quindi ovviamente costano di meno perché acquistarne il diritto costa di meno, ecco, si paga per lo più la stampa, il lavoro, la traduzione, però costano di meno perché non c'è il diritto d'autore. Cosa che invece è presente per i libri contemporanei e quindi questi costano ovviamente di più ed è stato difficile trovarmi qualcuno sotto ai 10 euro, però diciamo che ho trovato 6 libri che mi piacerebbe consigliarvi, 6 libri di cui non parlo quasi mai e che secondo me sono validi se si vuole leggere qualcosa di interessante a poco prezzo. Ovviamente io mi riferisco al prezzo delle mie edizioni che ha scritto sulla copertina o sul retro copertina delle mie edizioni, cercando su Amazon c'è sempre il 15% di sconto oppure non sto contando le varie promozioni che possono esserci, parlo semplicemente del prezzo che c'è scritto sulla copertina il prezzo pieno. Quindi niente, direi di incominciare. Il primo libro che vi voglio consigliare che costa 7,90€ in questa edizione Tascabili è L'amore bugiardo di Gillian Flynn o Gillian Flynn o non lo so insomma questo qui. So che a molte persone non piacciono le edizioni Tascabili perché metterle in libreria è veramente antiestetico, insomma sono piccoline, sono cicciottine, sono bassine, quindi è brutto da vederle in libreria, ma io le trovo veramente tanto tanto comode soprattutto se si viaggia, se si vuole portare il libro in borsa, se si vuole portare il libro nello zaino, insomma se si vuole avere sempre una lettura a portata di mano, un libro molto leggero e un libro abbastanza godibile. Questo libro mi è piaciuto un sacco, ve ne ho parlato lo scorso anno ecco, era andata abbastanza in fissa lo scorso anno e molti di voi probabilmente conosceranno la storia dell'amore bugiardo perché c'è il film, è uscito il film un po' di tempo fa, dovrebbe essere anche su Netflix. È un film interessante e ovviamente se avete visto il film sapete di cosa parla la storia, il libro tratta esattamente di quello. Ci sono Amy e Nick, due persone che sono sposate da 5 anni quando esattamente il giorno del quinto anniversario di matrimonio Amy sparisce, sparisce da casa, sembra che sia stata rapita, c'è del sangue, non si capisce, quindi tutti partono alla ricerca di questa donna per capire che fine ha fatto, per capire cosa è successo e questo viaggio all'interno di questo libro ci porterà a scoprire un po' la vita di queste due persone, la loro vita matrimoniale, i loro pensieri, come si approcciano al mondo eccetera eccetera eccetera. È insomma una storia sì gialla, è una storia di ricerca, è diciamo un thriller, ma è anche una storia nei sentimenti, nei viaggi di una coppia sposata da anni, quindi l'ho trovata interessante sia per questo aspetto psicologico sia per l'aspetto ovviamente dell'investigazione. Quest'edizione ve l'ho detto costa 7,90€ e credo che ormai si trovi un po' dappertutto, io lo comprai lo scorso anno in una libreria aggiunti, quindi credo che si possa facilmente reperire. Il secondo libro, questa volta con il prezzo pari pari di 10€, è David Grossman, Che tu sia per me il coltello. Allora questo libro, io con questo libro ho un rapporto particolare, diciamo che ho provato a leggerlo un po' di tempo fa quando avevo 17, forse 18 anni e non mi è piaciuto. Ho provato a rileggerlo e l'ho trovato interessante ma l'ho sempre interrotto, la terza volta è stata quella buona per far scattare la scintilla tra me e Che tu sia per me il coltello. Questa edizione è abbastanza vecchia ma comunque costa 10€, è della Mondadori. È un romanzo diciamo epistolare, c'è questo uomo che scrive a una donna che ha visto comincia a scriverle delle lettere per raccontare la sua vita. È particolare, strano, non è probabilmente un libro adatto a tutti, bisogna leggerlo nel momento giusto, con l'impostazione mentale giusta, perché ecco non è un raccontino, non è una storia che semplicemente basta stargli dietro. È forte, è potente, è un libro ricco di frasi interessanti, di riflessioni, quindi io ve lo consiglio però ecco sappiate che bisogna leggerlo nel mood giusto, altrimenti come me non lo apprezzate. Oh, il prossimo libro che vi consiglio è diciamo uno young adult fantasy circa, è Ranks or Rings, la casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Questa è l'edizione, quella con la copertina morbida e il prezzo è pari pari di 10 euro, è edito dalla Burra, ci sono anche dei seguiti, però adesso vi parlo soltanto del primo. È una storia che mi sono approcciata principalmente oltre per averne sentito parlare un sacco, perché ci sono le foto dentro. Sono foto molto creepy, molto macabre, io sono diciamo un amante delle storie abbastanza creepy, macabre, anche se sono una fifona, alla fine mi vado sempre a guardare tutti i film horror che escono, insomma per farvi capire che persona sono. La casa per bambini speciali di Miss Peregrine, anche di questo è uscito un film, ma comunque adesso stiamo parlando del libro, è una storia che tratta un punto di questa casa per bambini speciali e qui siamo capi dall'ovvio, però in realtà parla di questo ragazzo a cui muore il nonno e che praticamente il nonno gli raccontava sempre le storie di questa casa, dove era cresciuto e quindi lui decide un po' di andare a cercarlo, andare a vedere dove era cresciuto questo nonno, se le storie che raccontava lui erano soltanto storie di fantasia o se avevano qualcosa di reale. È una storia interessante, ecco appunto ve l'ho detto, se vi piace un po' il creepy è la storia per voi. Non aspettatevi niente di pauroso, non lo è uno young adult, però comunque è piacevole, è fruibile, non aspettatevi il libro della vita, però comunque è interessante, comunque è un libro che costa relativamente poco e che quindi può essere letto tranquillamente. Altro libro che vi consiglio, poi passiamo agli ultimi due che sono due classici, questo è l'ultimo che non è un classico, è Susanna Tamarro, Va dove ti porta il cuore. Allora questo libro, anzitutto in questa edizione, costa 8,50€, è edito da laburo, però questo libro è abbastanza vecchio, io l'ho comprato in un mercatino dell'usato parecchi, parecchi anni fa, ecco nel 2014, quindi comunque è un libro abbastanza vecchio, credo si trovi in edizioni anche più economiche di 8,50€, però in ogni caso è una storia, ecco questa è una storia di vita, che è faticoso riassumervi perché per l'appunto non è una storia a cui ci sono dei punti focali, nel senso non lo so, un mondo particolare, un personaggio particolare, delle azioni particolari, è semplicemente la storia di questa donna che si racconta, che racconta la sua infanzia, che racconta la sua vita, ma lo fa con così tanto tatto e con così tanta, diciamo, saggezza, che alla fine è un libro che ti resta dentro, è un libro che assolutamente va letto, è uno di quei libri che secondo me rispondono alla domanda quale libro devo assolutamente leggere? Ecco io vi consiglio Susanna Tavarrova, dove ti porta il cuore, all'inizio era un po' scettica, l'avevo comprato perché ne avevo sentito parlare, però era tipo vabbè, sarà uno dei soliti libri con le frasi belle che si leggono su Facebook, invece no, invece no, oltre ad avere frasi bellissime che si leggono su Facebook, è un libro veramente, è un libro veramente toccante, quindi io assolutamente vi consiglio, va dove ti porta il cuore, non costa neanche tanto, quindi appunto va letto. Adesso abbiamo due libri classici, ho scelto uno della letteratura inglese e uno della letteratura italiana e cominciamo. Letteratura italiana, 1800-1900, Italo Svevo, Senilità. Ho scelto Senilità, non La coscienza di Zeno, perché La coscienza di Zeno è famosissima, è conosciutissimo, volevo consigliarvi un libro meno conosciuto, Senilità è il secondo romanzo di Italo Svevo e parla della storia di Emilio Brentani, Emilio Brentani che appunto vive a Trieste, come tutti i protagonisti di Italo Svevo e qui conduce una vita tranquilla a casa con la sorella. È una storia di Italo Svevo, quindi dovete aspettarvi un tema alla Italo Svevo, ovviamente l'inettitudine, ovviamente l'agninazione, tutti questi grandi grandissimi temi. Io sono una fan di Italo Svevo, sono sempre stata una fan di Italo Svevo, sempre sarò una fan di Italo Svevo. Senilità mi è piaciuto di meno della coscienza di Zeno, però ve lo voglio consigliare perché appunto è meno conosciuto. Costa in questa edizione 7 euro, questa è l'edizione dei classici Feltrinelli, l'universale economica, anche questo libro l'ho comprato veramente un sacco di tempo fa, ora non ve lo so dire, però in ogni caso sicuramente si può trovare, si può trovare credo anche in edizioni più economiche. L'ultimo libro che vi consiglio, l'ultimo classico che vi consiglio, il fatto che sia puntellato qui di Foglietti mi fa capire quanto io l'abbia amato ed è l'amuleto di Shakespeare. In questa edizione è a 5,90 euro della Rusconi Libri che dovrei aver comprato su Amazon, ma anche qui sicuramente in commercio si trovano edizioni comunque sotto ai 10 euro. È un libro famosissimo, è un libro conosciutissimo, io adoro la storia di Amleto, adoro il pensiero di Amleto, adoro il modo di porsi di Amleto, ovviamente la storia la conosciamo tutti, Amleto principe di Danimarca, gli muore il padre, la madre si risposa, lui comincia a covare vendetta, si finge pazzo, insomma è la storia di Amleto, la conosciamo tutti. È un'opera teatrale, è un'opera in atti, molte persone so che non apprezzano le opere teatrali, io sono tra quelle, non mi piace leggere il copione delle opere teatrali, il canovaccio, gli atti, però l'Amleto, l'Amleto mi ha rubato il cuore proprio per le riflessioni e per il personaggio di Amleto. E niente, questi erano tutti i libri che volevo consigliarvi, sono 6, spero possano esservi piaciuti, spero possa esservi piaciuto questo video, possiate aver trovato interessanti questi consigli e utili soprattutto per i vostri acquisti futuri. Io vi ricordo anche qui che se volete potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace, un commentino, insomma tutte queste cosine da influencer, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, vi vanno un bacio enorme, ci vediamo in un prossimo video, ciao!